Cioè ho appena finito di fare la libreria nuova e devo già smontarla. I casi della vita. Porco! Non sto scherzando, eh? Sono in queste condizioni. Sono a metà. Insomma, è praticamente quasi tutta vuota. Sono tristissimo. Tristissimo. E sì che sono triste perché, insomma, questo è il mio spazio libreria. Il mio studio non esisterà più. Allora, andiamo per punti. Vabbè, sono cose personali ovviamente, però condivido con voi che ho deciso di fare qualche piccolo lavoro in casa e dovremo addirittura assentarci per un po' proprio dal nostro alloggio. Quindi ho deciso di togliere tutto quello che poteva rovinarsi e di conseguenza non avrò più praticamente nulla da leggere con me. Dio Dio, che sciagura! E anche gli acquisti saranno veramente, veramente bloccati. Allora, azzerati direi di no, perché qualcosina andrò a comprare, ma solamente le cose che riguardano le uscite mensili da Edicola, quindi il Dragonero, piuttosto che il Morgan Lost e il Story of the West, ecco, roba così. Ma mi smentisco subito. Guardiamo qual è l'ultimo acquisto. Un bel recuperino. Sto andando a ritirare un pacco, ma come capirete è l'ultimo. O meglio, per un bel periodo mi fermerò, comunque ho cercato di spiegarvi. Però questo, ragazzi, è una chicca spettacolare. Eccolo qua! Si tratta di un cartonato. È una storia che ho già, ma ce l'ho in bianco e nero. E questo invece ha colori. È una storia che tantissimi amano, perché è un po' l'inizio di tutto. Dai, raga! Dragonero! Ed eccolo qui! Tutti quanti voi lo conoscete, lo so che lo conoscete, lo amate. È un cartonato che io volevo acquistare da tantissimo, tantissimo tempo. Questo è stato stampato nel 2015. Vedete che il prezzo di copertina, nella quarta di copertina, c'è ancora 28 euro. Un ragazzo lo vendeva a 38, più o meno il prezzo si aggira a quello. Siamo lì, qualcuno addirittura lo vende a 40, 45, ma neanche mi avvicino. Ho offerto 20 euro per questo acquisto. Alla fine ne ho spesi 24 e questo qui è arrivato a casa mia. Sono molto contento, perché se non lo conoscete, almeno sfogliatelo. Ecco, si tratta del romanzo a fumetti Bonelli, che ha dato un po' l'origine alla storia, al percorso di Dragonero, però incartonato, colorato, su carta lucida, niente male. Quindi, primo acquisto di questa carellata, eccolo qua. Immancabile Dragonero Conan, c'è anche il terzo numero di questa trilogia, sicuramente lo andrò a recuperare, e poi, visto che questi volumi li tengo con me, cercherò di fare anche un video, chissà dove nel mondo, ma magari parlerò appunto di questa trilogia. Conan Dragonero è un bel team up, è una bella esperienza editoriale fra, insomma, la casa statunitense e Bonelli. Sono curioso di sapere come terminerà la storia, se hanno sbraccato oppure no. Altro acquisto, ma avete già visto, insomma, il video che ne parla, è il D-Landog 449, Carlo Ambrosini, autore completo. Adesso vi presento un volume veramente fichissimo, anche qui si parla di cartonato, ero assolutamente titeloso di acquistarlo a Luca Comics 2023, ma era già terminato al secondo giorno della fiera, e quindi, grazie all'amico Viper, ho recuperato questo volume, che è reputo veramente, veramente interessante, 1629, Jakarta è il titolo, qua abbiamo Timothée Montaigne e Xavier D'Orison, si tratta di orrida vicenda dei naufraghi della Jakarta, appunto questo velero fantastico, vi faccio vedere qualche immagine, giusto per darvi un po' la chicca. Niente male, niente male, vabbè, inserti iniziale, perché, vabbè, c'è riferimento storico, ovviamente, guardate qua che bello, la stampa delle, delle cartine, e poi, questo è il livello del fumetto, una carta che non è lucidissima, ma sono contento, perché così, i riflessi non sono esagerati, comunque, il livello grafico è molto bello, e anche il colore, che dite, a me soddisfa parecchio, non vedo l'ora di leggerlo, è appunto un volume che mi godrò con enorme piacere, guardate qua, basta, ho terminato con gli acquisti, ma, se avete voglia, apriamo un'altra pagina, in questo video un po' sbrindellato, nel senso che, ho appena detto che la mia libreria praticamente non esiste, e quindi, io non potrò più leggere, difficilmente farò video, sono appunto quello di Conan, come già menzionato, ma ho deciso di tenere dei volumi, senza scatorarli, imbustarli, spostarli, eccetera, ma farò una busta dedicata a questi volumi, che porterò con me, e adesso vi faccio vedere, quindi, quello che in questo periodo potrò leggere, un singolo volume di giallo, il numero 4, ve lo potrò con tanto piacere, ho deciso di dare una chance, a questo volume, ne ha parlato anche l'amico Viper, quindi, un lungo cammino, qui abbiamo il nostro palloni, ma ai disegni, perché la storia, è di daveti, insomma, ci sono quindi daveti, palloni rossi, che si alternano in questa vicenda, molto, molto interessante, vediamo un po' se riesco, ad aprire, ecco qua, ma il comparto grafico, non è male, bravo palloni, ad aver cambiato un po' il suo approccio stilistico, soprattutto quando da i colori, insomma, i disegni colori, a la storia di qualcun altro, quindi, ve ne parlerò, perché sono convinto, che sia una figata, porterò con me il 303 di Gartenniss, storia di guerra, interessante, guardate, avete letta? Questo è un po' il livello, è una brutta giornata, non questa, ma quella che è al centro della serie, secondo me, geniale, edita dal DC, quindi, una brutta giornata, ha ben otto volumi, che adesso vi faccio vedere velocemente, questi sono i volumi, che compongono la serie, perdonatemi, non sono perfettamente in ordine, conta poco, voilà, questi sono tutti i volumi, che io leggerò, con grande curiosità, nel mio periodo sabbatico, voglio chiudere questo video in bellezza, perché è un altro volume, cartonato porno lusso extra figo, che mi porterò da leggere, è proprio Arlene, non vedo l'ora, veramente, di affrontare questa lettura, non solo per i disegni fantastici di Seges, ma anche per la storia, perché dicono essere estremamente interessante, poi insomma, Harley Quinn è un personaggio super controverso, amato da molti, e io sono uno di quelli, anche se non sono un cultore completista, questo volume non può mancare nella mia libreria, e quindi in questo periodo, un po' di stand by, me lo leggerò con piacere. Come detto, un video un po' strampalato, un po' vita questi, un po' video letture future, e non quelle fatte, e un po' cenni a vita privata, e quindi anche all'attività del canale, che sarà veramente, veramente poco attiva. Se vedete dei video ancora nei prossimi giorni, semplicemente perché li avevo già caricati, registrati, e quindi così è. Perdonatemi, ma secondo me non sentirete troppo la mia mancanza, piuttosto andatevi a beccare un video vecchiotto, perché un sacco di cose interessanti ho prodotto in passato, tra l'altro stiamo aumentando, e chissà, magari proprio nel periodo silente, riusciremo a raggiungere quella cifra che tanto mi aspetto da tutti noi. Grazie. A presto. Ciao da Igor. E sì, forza.